ci hanno sempre mentito dalla notte dei tempi ci hanno sempre mentito non ci dicono la verità questo disco luminoso che vedete è la luna sembrerebbe la luna è la luna che cos'è questa luce che segue la luna in maniera quasi fissa, per non dire fissa è sempre qui distante alla luna, sempre vicina alla luna questa luce la vedete? non è una stella non può essere una stella e non è un pianeta perché segue la luna non può essere un pianeta e non può essere una stella allora che cosa è? osservatela bene questa luce è molto molto intensa dicono che sia sirio ma è impossibile, non è sirio perché la luna prima era più in basso all'orizzonte e c'era sempre questa luce vicino a lei e sirio non segue la luna nel cielo, nella volta celeste sirio fa parte della costellazione del cane maggiore maggiore non può essere non può viaggiare simbiosi con la luna ha la sua traiettoria nel cielo le stelle fisse si muovono lentamente ma si muovono perché tutto si muove, tutto gira e allora che cosa è questa luce? e questa luna così luminosa che cosa è? sembra quasi un faro sembra quasi un proiettore e se fosse un ologramma? ma noi lo sappiamo veramente se è la luna autentica se è la luna quella dipinta dagli antichi nei pittogrammi nei geoglifici nei simboli cuneiformi siamo sicuri che sia quella luna lì o sia un'altra luna dovete sapere che le fasi lunari dipinte dagli antichi nelle antiche scritture erano completamente diverse completamente e quindi non poteva essere questa luna qualcosa è successo qualcosa ha modificato in queste fasi lunari noi non lo sappiamo noi non sappiamo tante cose ci sono ignoti secoli per non dire millenni per non dire milioni di anni milioni di anni di buio totale la razza umana non si sa da dove provenga esattamente dall'uomo di Neandrata dall'uomo di Gromanion fino all'homo sapiens ci sono dei buchi di milioni di anni dei buchi neri e non sappiamo nulla di queste pause di vuoto niente non sappiamo che cosa è successo ci dobbiamo fidare di quello che leggiamo nei libri di storia che a volte raccontano delle delle favolette delle storielle a cui abbiamo sempre creduto e a cui diciamo abbiamo cullato le nostre pallide certezze fin dai banchi di scuola fin dalle scuole elementari le scuole medie ci hanno insegnato queste cose ma poi alla base non abbiamo niente di concreto e questa luce che segue la luna è nell'ennesima prova noi stiamo vivendo in un'epoca in cui molti segreti verranno svelati verranno rivelati la Matrix cadrà presto cadrà presto e molte cose verranno rivelate ma una cosa è certa che ci stanno mentendo da tanto tempo e chissà davvero chi ha scoperto davvero certe cose non ce le dice la NASA non voglio dare percentuali sbagliati ma se dico che ci mente all'80% forse esagero ma se dico che ci mente al 70% forse sono vicino alla realtà tutte immagini in falsi colori elaborazione al computer non abbiamo delle immagini autentiche certo sono oggetti lontani anni luce e come facciamo a fotografarli e riprenderli in maniera vivida in maniera reale sono immagini ottenute con calcoli algebrici calcoli matematici immagini in falsi colori computer graphic abbiamo anche delle foto cosiddette reali dei pianeti prendiamole per buona quelle possono essere davvero reali sicuramente almeno il 30% delle informazioni scoperte è vero ma sono convinto che almeno il 70% non sia quello che dice la NASA o che ci mostra la NASA non sappiamo nulla del nostro passato e quello che vediamo sembra sembra la luna chi ti dice che magari non sia la luna o sia una proiezione della luna o che sia una luna artificiale che cosa è questa luce che segue la luna una stazione spaziale ma no ma non è possibile che sia una stazione spaziale se orbita attorno alla terra come fa a seguire la luna orbita attorno alla luna ci sono delle cose che che non tornano assolutamente bisogna riflettere su questo osservate bene se avete un telescopio un binocolo potente utilizzatelo e controllate bene che cosa è questa luce certo ovviamente i mezzi sono molto limitati non abbiamo i mezzi della NASA ma sicuramente partendo da queste basi qualcosa ci si può ricavare un caro saluto grazie a tutti